Il Consiglio Provinciale di Trento sembra sempre di più un ok corral, dove bene o male invece che discutere di politica si finisce nella contumelia e nella offesa reciproca. E ne sa qualcosa la consigliere provinciale di Alleanza Nazionale Alessia Ambrosi che è stata nuovamente oggetto di pesanti attacchi da parte degli esponenti della Lega e soprattutto questa volta da parte di una sua collega donna. A tra poco sullo schiacciassassi. Cari amici vicini e lontani, bentornati alla nuova puntata dello schiacciassassi da parte di Stefano Veliene. Come detto, il Consiglio Provinciale di Trento è sempre più un ok corral, dove bene o male, come in una specie di saloon dove si va avanti a grappe, alcolici e di intorni vari, Ogni tanto si cade in qualche zuffa che bene o male, per fortuna, non è ancora sfociata in attacchi fisici ma in contumelie belle forti e anche pesanti. L'ultima in ordine di tempo ha visto protagonista l'assessore provinciale della sanità Stefania Segnana della Lega che ha attaccato brutalmente, con un epitoto veramente degno di una caserma di altri tempi, la sua ex collega di partito colpevole di aver abbandonato una Lega sempre più priva di una chiara visione politica e soprattutto di una guida seria e salda, per approvare a Fratelli d'Italia e da lì sono nati tutta una serie di questioni e di contese che nella discussione dell'altro ieri sono sfociate, in conclusione dell'intervento da parte dell'assessore Segnana, in un chiaro e netto vaffanculo porca troia rivolto alla sua ex collega di partito e ora esponente di Fratelli d'Italia. L'Ambrosi ha fatto buon viso a cattivo gioco e ha postato sui suoi social, sui suoi canali, il video da cui si evince da un confronto labiale, perché l'audio vero e proprio non si percepisce, però è molto facilmente intellegibile il fatto di questa contumelia che è stata giudicata tale anche da parte di tutti gli altri presenti in sala. Ebbene, Ambrosi ci deve fare il callo perché solamente pochi mesi fa quello che era l'ex presidente della Lega, Alessandro Savoy, aveva definito la stessa Ambrosi in un estremamente modo commenevole, dicendo che i cani restano cani e le troie restano troie, dando appunto della troia, della volta gabbana alla stessa Ambrosi per aver abbandonato la Lega. Ebbene, secondo lo schiacciassassi è necessario che la Lega si dia una regolata e soprattutto abbandoni quel metodo di fare di voler essere il primo della classe, quando bene o male al giorno d'oggi non lo è affatto. Anzi, se si fa vedere i sondaggi, è molto probabile che la Lega, da 14 consiglieri, che ne ha già persi due e un terzo probabilmente è prossimo all'abbandono, nel 2023, tra solo un anno, quando si rivoterà per il rinnovo del Consiglio provinciale, avrà una rappresentanza ben più che dimezzata. In questo ambito qua bisogna che se la Lega vuole mantenere una base di consenso e soprattutto vuole evitare di avere un tracollo definitivo, bisogna che dia risposte al Trentino in maniera concreta, su basi reali e non semplicemente su contumelli facili che possono anche essere sfuggiti in certi casi. Ma quando bene o male, come in questo caso, sono semplicemente gratuite, che vanno solamente a colpire coloro che hanno solamente la colpa di non pensarla allo stesso modo e di avere abbandonato la tua forza politica, beh, ce ne corre. A Segnana, comunque, potrebbe essere consigliabile di utilizzare un maggiore bon ton, perché anche nel suo aveste istituzionale ben poco le si aggrada una così pesante e greve caduta di spirito e soprattutto di tono. Un amministratore pubblico deve anche da saper dare prova di poter incassare e di fare buon viso a cattivo gioco, cosa che in molti casi gli amministratori pubblici della Lega hanno dimostrato ampiamente di non sapere fare. E, aprendo una parentesi, sarebbe interessante sapere cosa succederà adesso in casa della Lega e in particolare in quella del Presidente e dell'assessore alla Foreste in tema di caccia agli orsi e ai lupi, proprio adesso che il Parlamento nazionale ha inserito nella Costituzione la difesa degli animali. E sappiamo tutti che lupi e orsi sono patrimoni indisponibili dello Stato e come tale protetti. Continueranno a dire che bisogna cacciarli, che bisogna eliminarli, che bisogna ridurli? Ai posteri l'ardo sentenza. Cari amici, vincili lontani, anche questa puntata lo schiacciassassano termina qua. Prima di salutare vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per dare voce, forza e visibilità a questa voce libera, indipendente, autorevole e soprattutto fuori dal coro. Intanto, da parte di Stefano Elena, un saluto e arrivederci alla prossima puntata. Ciao!